allora benvenuti nella mia casa nel multiverso allora vi faccio vedere un po che sono riuscito a personalizzare alcune cose ma in realtà veramente poco nel senso che la c'è l'avatar che indossa l'oculus e c'è questo salottino io mi posso mi posso spostare avanti indietro posso girarmi posso allora benvenuti nella mia casa nel multiverso sono riuscito a personalizzare qualcosa nel senso che la si vede il mio avatar che indossa l'oculus e la nella big screen per il momento ho messo un'immagine anche se risulta un pochettino sgranata di me un po in un ambiente inquietante legato appunto ai social si può anche inserire sempre sul pc e anche sul big screen qualcosa di diverso per esempio un video nel momento in cui dovessi invitare qualcuno potrei fare una piccola festa ma non so che tipo di festa può venire in una cosa del genere ora io mi posso muovere posso uscire sul balcone c'è un bel balcone che gira intorno alla casa non ho capito perché c'è un barbecue nel senso che non mi risulta che esista della carne virtuale da far grigliare però o delle verdure per carità però io intanto posso guardarmi lo skyline che come vedete fatto un pochettino di immagini renderizzate invece di immagini reali laddove sui palazzi vi sono dei bollini con dei delle faccine vuol dire che quelle case sono state comprate io mi sono comprato il trentaseiesimo piano tutto il piano perché sopra non era più disponibile e devo dire che l'ho pagato tutto sommato meno quasi la metà di chi ha comprato l'attico o la penthouse ci sono delle sedie quindi potrei anche sedermi un attimo qua ma non ne ho assolutamente bisogno mi godo ancora un po il panorama mi faccio questo giro enorme per poi rientrare anche se un po a scatti ci sono dei vasi di discutibile gusto c'è una radio vintage però non ho capito se posso farla funzionare o no c'è anche una pianta e spero che sia finta perché non ho il pollice verde però anche se dovesse morire pazienza ecco niente questo è tutto il giro del mio super appartamento che ho al trentaseiesimo piano del multiverso o infiniverse come lo chiamano loro e come vedete come vedete lì quindi ultimo sguardo e poi ci salutiamo e vi aspetto qui per un party ciao e buon anno